l'Atalanta batte la Juventus per 3 a 0 nei quarti di finale di Coppa Italia accede così alle semifinali contro la Fiorentina potremmo dire tantissimo di questa impresa clamorosa potrei fare un video probabilmente di 4 ore ma ve lo risparmio ho deciso quindi di fare 4 considerazioni che sono secondo me gli elementi che mi hanno più colpito poi sono ansioso di leggere i vostri e di confrontarci però ci saranno migliaia di cose da dire ma per brevità provo a riassumere solo giusto gli spot principali la prima cosa che mi ha colpito è la fase difensiva ne parlavamo il video scorso ne abbiamo parlato anche nei commenti Gasperini è un gioco offensivo ma prevede una fase difensiva ben chiara e questa fase è stata fatta in maniera perfetta non ci siamo mai trovati in inferiorità numerica non ci siamo mai trovati scoperti non ci siamo mai trovati in seguire siamo sempre riusciti in qualsiasi modo a fare gli anticipi giusti a fare le coperture giuste e di conseguenza la Juventus non è riuscita giocando palla al piede perché nonostante allegri continuasse a dire di buttarla lunga giocando palla al piede non è riuscita a passare un lavoro impressionante e poi possiamo parlare anche dei singoli perché Toloi ha fatto un partitone Palomino che non è probabilmente il giocatore più aggressivo da un punto di vista difensivo ha fatto delle coperture impressionanti e poi mi tocca citare Jim City se non altro perché è uno di quelli che mi sta più simpatico perché è davvero un giocatore che fino all'altro ieri sembrava andare via e invece adesso si trova lì in mezzo e svolge un compito in maniera egregia deve essere assolutamente menzionato fa benissimo le coperture esce sempre perfetto si rivela anche un buon servitore di lanci perché ha fatto diversi lanci diverse impostazioni e non le ha fatte male non le ha fatte male quindi anche quella potrebbe essere una carta che se affinata un po potrebbe davvero diventare un'arma interessante detto ciò la fase difensiva è stata assolutamente perfetta ed altronde se non prendi gol dalla Juve francamente non può essere diversamente il secondo commento che faccio sul centrocampo abbiamo in mezzo due centrali che secondo me rappresentano oggi i centrocampisti difensivi più forti della serie è un'affermazione forte ma di giocatori che corrono 90 minuti in quel modo e che fanno gli intercetti che fa Deron e le impostazioni che fa Freuler in giro non ce ne sono puoi trovare squadre che ne hanno uno più forte puoi trovare squadre che invece hanno magari una serie di giocatori mariano il fantasista ma non hanno l'altro due giocatori che si combattono alla perfezione e rappresentano insieme la coppia di centrocampisti più forte che c'è in serie a per quanto riguarda la fase difensiva io non ho mai visto niente del genere perché Deron è ovunque veramente è ovunque corre come un matto ogni volta che si sgancia un difensore è lui andare a prendere la posizione ogni volta che c'è una ripartenza è lui il primo andare sull'intercetto della palla e lo stesso discorso Freuler qualunque compagno abbia il pallone se in difficoltà Freuler arriva se lo fa scaricare e farselo scaricare vuol dire prendersi anche la responsabilità magari di ricevere un pallone in una zona alta concentrazione di avversari di perdere la palla di far la figura del pollo Freuler invece si assume la responsabilità va sempre a prendere il pallone e lo smista in maniera egregia una cosa impressionante e un commento devo farlo anche sugli esterni perché se non a parte Atterberg magari in fase offensiva non è inciso ma a corso come non so che cosa io la capacità polmonare di quel ragazzo lì non so quanto possa essere però impressionante dall'altra parte abbiamo Castagni che ha fatto la partita della vita tralasando il gol bellissimo poi uno può dire che il portiere non era posizionato intanto a me è un esterno che taglia così la butta e prende anche quasi l'angolo della porta mi basta ma avanza ma le volte che si è sovrapposto che è andato a riprendere il pallone che tutte le volte che la Juventus usciva sul laterale andava lui alto a prenderlo una partita una prestazione che giustifica tra l'altro anche la sua convocazione nazionale abbiamo davanti un giocatore che è arrivato zitto zitto muto muto e sforna non sempre perché dobbiamo essere onesti ma quando le sforna sforna dalle prestazioni assolutamente camorose il terzo commento che devo fare è necessariamente per invece per la fase offensiva Zabada io non ho più parole l'ho detto sul me ragazzo è tranquillo è felice e fa delle cose impressionanti tra l'altro il suo gol il suo primo gol è veramente di quei gol che piacciono a me lui prende palla in aria un po carambola così si gira sassata in porta vieni sulla rete punto io sono un amante di un calcio forse un po un po old school ma davvero mi fa salire in piedi sul dimanno vedere certe cose e comunque un giocatore che tra l'altro legandoci anche al discorso della fase offensiva è tornato mille volte guardate che io mi soffermo tanto su questo punto perché è fondamentale abbiamo difeso compatti e abbiamo attaccato tutti insieme è una roba che richiede uno sforzo inimmaginabile ma il risultato è clamoroso poi in fase offensiva un commento dobbiamo farlo necessariamente per il popo che si muove ovunque va giù torna in difesa prende il pallone intercetta risale si offre di spunto fa le spune fa tutto gli manca solo il gol perché nella posizione in cui si trova francamente non è proprio la cosa più semplice del mondo almeno che non ti vengano fuori dei tiri da 35 da 30 metri a girare ma fa un lavoro che è davvero maestoso perché avere la palla ai piedi sapere dettare i tempi sapere individuare anche il spazio in cui poter far partire l'azione quel ruolo di registro offensivo davvero è una marcia in più perché tutta la difesa avversario deve aspettare il papu capire che cosa dice il papu e poi muoversi di conseguenza se no vai fuori posizione sicuro come pochi e questa idea di gasperini è l'ennesima dimostrazione che questo allenatore veramente ha delle idee brillanti l'ultimo commento che io voglio fare è una roba un po così sono anche come si chiama però noi diamo sempre alloggi al mister se li merito ovviamente devo sempre alla società per cassa tutti io voglio dare un grazie voglio fare i complimenti a chiunque sia perché non so il nome che il preparatore atletico io non ho mai visto una squadra correre così da due anni a questa parte anzi io l'ho vista una di squadra che fa così è l'atletico madrid che notoriamente al preparatore atletico più forte del mondo io chiunque sia madre marcia ignorante io non so il nome ma ha fatto un lavoro incredibile ha trasformato anche dei giocatori che francamente stanno giocando al 200 per cento delle loro possibilità perché poi quando ha il fiato quando ha il fisico riesce a superire anche alcune mancanze e l'atalanta l'ho dimostrato per l'ennesima volta fisicamente è la squadra più forte che c'è da un punto di vista della direggere lo sforzo e l'intensità sul lungo davvero è una carta che viene poco citata ma è sicuramente un elemento fondamentale per i risultati che stiamo conseguendo io come al solito vi ringrazio vi lascio con tutti i link se volete seguirmi altrimenti ci vediamo su talantini.com dove spero di leggere tutti i vostri commenti e confrontarci un po e parlare di calcio ciao